Ok, questo è un po' di mal di testa, cioè il nostro personaggio, un malox, un moment act, mal di cola, il personaggio è un po' di mal di cola Hi, I'm Janji Hi, I'm Janji e benvenuti in questo secondo episodio del Vultrug di Aragami Continuiamo il secondo capitolo Ed ecco ragazzi, il gioco ci fa riprendere da questo punto Il primo episodio mi è piaciuto tantissimo, ve lo devo dire E continuiamo, vediamo dove, dobbiamo andare, dove ci fa andare il gioco Ok, c'è una scena, davanti a questo, sembra una volpe a nove code Oddio, sembra un po' Naruto questo gioco, infatti è la, la volpe a nove code Sembra che il nostro personaggio risente di qualche scena Ok, di nuovo, il nostro personaggio rimane sempre a bocca aperta Gli amico, ho visto qualcosa, una visione Io, l'ho visto anch'io, il rituale deve aver creato una sorta di ligame spirituale tra di noi Eh, i nostri personaggi si stanno conoscendo Ne ho avuto un'altra quando mi sono risvegliato, poco prima di incontrarti Qualche cosa significa? Chi lo sa Non esistono molte testimonianze scritte sul rituale che ho usato per scriarti Speriamo di scoprirlo presto Anche, di scoprirlo anche noi Sbrigiamoci, non posso evitare che tu sparisca all'alba Ok, aspetta che cosa? Oh no, te l'avevo detto? Il tuo corpo è fatto di ombra Se viene toccato da un solo raggio di luce Cioè ragazzi, in poche parole Se viene giorno, noi moriamo E mi dispiace Brutta trota Guarda ragami, sulla storia c'è una pergamena Dammi un'occhiata Guardiamo la pergamena Oddio, si può rubare anche le pergamene Trova le pergamene per scoprire maggiori informazioni sul passato E sbloccare le varie abilità di ragami Apri la schermata delle abilità premendo E usa i punti abilità per apprendere nuova tecnica dell'ombre o potenziarle Oddio Ti consente di spostarsi interamente tra le due zone d'ombra Questo l'ho sbloccato E punta a un qualsiasi superficie non illuminata Perché c'è praticamente questa che fa Crea una piccola zona d'ombra Nelle parti di luce E assorbita la sua aura Straordinario Qualche cosa fosse Sembra averti reso più forte Cerchiamo di trovarne altre Cioè, questo gioco si fa sempre più bello Creazione dell'ombra E creo l'ombra No, vabbè raga No, vabbè Io rimango sempre più esplordito da questo gioco Meno male che non l'hanno inventato Allora, prima di tutto andiamo a caricare qui Prima che si esce il mandello, per favore Eccomi Provo a creare le zone d'ombra In cui usare il tuo balzo dell'ombra In questo modo potrai superare qualsiasi altezza No, vabbè raga Io davvero non ho parole Sto dicendo questo dal primo episodio Ma perché veramente questo gioco merita Merita E mi dispiace che è così sconosciuto Ci capovoltiamo Capito il tuo Le richiamo delle ombre Vedi quel tempio E dove siamo diretti 87 metri Perché? Perché molto probabilmente Sarei intrappolata la ragazza Ho sentito che lì tengono un animale Che potrebbe aiutarci Un animale Che animale potrebbe essere? Un porco? Sì a quanto pare E in qualche modo è collegato A una magia Che ho usato per intrappolarmi Devi trovarlo a ragami Va bene Troviamo questo animale A proposito va bene Per te va bene se ti chiamo a ragami Va bene Chiamami come vuoi Io inizio No Non facciamoci vedere Creiamo una zona d'ombra Ed eccoci Allora Dobbiamo arrivare a quella Dobbiamo arrivare a quel castello Il tempio Per trovare questo animale Che ci darà questo potere O ci darà qualche dritta Per di una magia Perché con questa magia Ha intrapolato la ragazza Signorina Ok La zona marta E abbiamo fatto la prima kill Anche se non volevo uccidere nessuno Ma sono sincero Mettiamoci così Se anche se lo scopre Viene E lo uccidiamo facile Attenzione ragazzi Attenzione ragazzi Attenzione Siamo quasi arrivati Siamo quasi arrivati raga Manca poco Manca pochissimo L'arrivo dell'obiettivo Di tutti i posti in cui Potevano assegnarci Un cimitero Oddio ragazzi Se l'ho fatta Senza uccidere nessuno Cerchiamo di non cadere Sono 13 metri Sono quasi vicino All'obiettivo Non ci facciamo vedere Qui c'è quella guardia 13 metri Manca poco No Non voglio killare nessuno Madonna mia Per quanto non ci hanno visto Raga Tu non ci hai vista Scappa Scappa Madonna raga Se l'ho fatta l'ultima tutta Se avete visto questa azione Ok ho trovato l'animale E' un corvo Un corvo nero Attenzione c'è una scena Liberiamo questo corvo E niente ragazzi Non succede niente Adesso penso che dovremo scappare Un tempismo effetto Cercherò di fermarlo Quindi noi Ora dobbiamo seguire il corvo Attenzione ragazzi Che potremmo fare una kill E si E infatti Uccisione Fortiva Allora Il signore dice che il corvo Quindi noi Quello che dobbiamo fare E seguire L'indicatore Senza però farci scoprire Proprio quello che Stavo per fare La vera Ma nonna che kill Che c'è bimbo Che ti fa male la testa Ti fa male la testa Anche questo ucciso Anche questo Che c'è Ti fa male la spalla Ma la spalla Come cacchio Ci salgo io Eh Dico io no Un corvo Un posto un po' più lontano Non se lo potevamo scegliere Cioè guardate ragazzi Dove dobbiamo andare a prendere Questo corvo Che inizia un po' a odiarlo Quindi è qua Tutto un gioco Un po' di parkour Bello Se ne cadono pure queste pala Aspetta Allora noi saliamo di qua Presto 8 metri Dov'è il corvo Eccoci Segui il corvo Cioè il corvo si sposta No aspetta Dobbiamo ricaricarci ragazzi Comunque questo gioco Questo gioco Che usa L'effetto delle ombre E' bellissimo Lo sto dicendo Da più in un episodio Perché davvero Questo gioco Merita Eccoci qua L'ho trovato Era spaventato Ecco il corvo Così fiero Popo fiero sul suo ramo No Non tenevolare Oddio Una scena Nel villaggio Che viene attaccato Di questo Uomo Che colpisce Con il fuoco Bon Capisco niente Bella Anche queste scene così E' il corvo Il corvo Dove significare morte Ok questo Un po' di mal di testa C'è il nostro personaggio Un malox Un moment act Mal di cola Il personaggio Un po' di mal di cola Però il corvo Sembra Diventato il nostro amico E noi lo cacciamo Cioè Non ci abbiamo messo Circa un quarto d'ora di video Per trovare il corvo Non lo cacciamo Perché noi siamo intelligenti Che cosa significano le visioni Non lo so Mi sembrava di essere lì Credo che stessi usando L'essenza della luce Se usi Già l'essenza dell'ombra Non puoi essere un sequace della luce E sei nato solo Questa sera Ricordi Ma se ciò che vedo Non sono ricordi Allora che sto guardando Di chi sono queste visioni Eh Un dubbio nasce anche a noi Mi dispiace ma non lo so Forse lo capiremo Lo capiremo Strada facendo E questo Quello che mi piace Andando avanti nella storia Ci saranno molte Ci saranno molte Molte cose da vedere E come può aiutarci il corvo Ha tenuto sotto controllo L'attività di Kaiko Dovrebbe poterci guidare Ai talismani Talismani Il sigilo magico Che Kaiko ha usato Per imprigionarmi Prende il suo patere Da sei talismani Ci servono Per sperzarlo Quindi dobbiamo ottenerli tutti Prima di salvarti Praticamente dobbiamo trovare Questi sei talismani Talismani Che servono delle chiavi Tipo Tra virgolette Per salvare Questa ragazza E grazie a questo corvo Non ci vorrà tutta la notte Per trovarli Speriamo Ok ragazzi Continuiamo Dobbiamo andare A ricerca di queste tre smani Gli amico Perché tenevamo Il corvo in gambia Tenevano il corvo Il corvo Il corvo in gambia Forse non volevano fare Farlo cadere Le mani sbagliate Come le nostre Perché erano Un nostro obiettivo Oddio Allora col tasto in giù Non vediamo il nostro obiettivo Quindi non dobbiamo andare là Dobbiamo lasciare l'aria Ok Noi quindi Proviamo una zona d'ombra E cadiamo qui Attenzione a non farci Vedere a questo Kill easy E ragazzi Anche questo A fare la nanna Visto che è tardi Quello ha visto qualcosa Ragazzi Forse ci stanno vedendo Attenzione Ci dobbiamo far vedere Attenzione ci dobbiamo far vedere Oh Come lo fottiamo questo Ok 22 metri E siamo fuori Questo è morto Ragazzi Anche questo Gli diamo Gli diamo l'aspirina Per mandarlo a dormire Infortunatamente non ci hanno visto 16 metri E siamo fuori Allora secondo me Dovremmo salire di qui Questo Deve morire Perché mi sta antipatico Ragazzi Ecco Praticamente Gli abbiamo fatto assaggiare La nostra lama Praticamente noi dovremmo usare Questi totem Per salire Ok dai 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 Quindi qua dovremmo farcela a piedi Perché abbiamo Esaurito Le nostre energie Però questi Cazzoni Stavano di qua E io me ne voglio Di qua Meno male Uff Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta E dobbiamo continuare qua Il nostro obiettivo è Raggiungi la prossima area Praticamente dobbiamo fare Un po' di aria In stealth E fuggire dai nemici E io col cacchio Che scendo di qua Perché Muoio Ah ma devo continuare O no Non capisco Vabbè penso che devo andare di qua Sì Devo andare di qua Bellissimo Questo gioco ragazzi Un po' Di parkour Non guasta mai Ricariciamo tutto il mantello Perché qua Ci serve tutta l'ombra Possibile Immaginabile E dobbiamo anche muoverci Ricarica E siamo Ragazzi Ma no Ce l'abbia fatto giusto in tempo Giusto in tempo Perché come potete vedere Sono crollati Quei massi Che ci sostenivano Quindi noi Dove dobbiamo andare Ma di qua che c'è Cosa Il tuo corvo Ok sbloccato Sbloccato Curuso Marca il tuo bersaglio Seguendo nella continua Posizione Sblocchiamolo Ok praticamente Ci aiuta A spottare I nemici Continuiamo 15 metri Siamo arrivati all'obiettivo Ok ragazzi Penso che ci sia una scena Ora Ah va bene Abbiamo fatto veloce Veloce anche questo capitolo Punteggio B Siamo migliorati Il capitolo di ritiamo Delle ombre Mai scoperto Nessuna minaccia Tutte minacce eliminate Cioè non Non ho fatto nessun sigillo Ok Va bene ragazzi Questo Anche questo secondo capitolo Per stasera L'abbiamo fatto Si è detto che stasera Che sta registrando di notte Un po' tardi Spero che questo episodio vi piace Ragazzi Fate sapere se questo gioco È serie Oltre lui Come la sto portando Io vi piace Ditemi se devo fare video Un po' più lungo O più più corti Ditemi tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao